ciao a tutti oggi lunedì 30 aprile ponte del primo maggio ne approfittiamo per una passeggiata improvvisata e andiamo al parco di monza dove dovrebbe esserci anche uno street food quindi passeggiata salutare ne approfittiamo per vedere cosa c'è e cosa non c'è e vediamo partiamoci ora circa un'oretta da san paolo partiamo e via ciao bene arrivati al parcheggio della villa reale c'è qua tanta gente meglio così tanto il parco è grande via iniziamo la camminata grazie sono la monica di bene dopo un po di camminata all'interno del verde dal parco di villa reale stiamo arrivando al punto di street food si inizia a sentire un po di musica vedere le prime bancarelle andiamo a vedere cosa c'è la manzana un po di musica prima di cominciare a mangiare a capire un attimino cosa mangiare ci facciamo una birrettina insuriamo un attimo come si suol dire e dopo inseriamo il da farsi un po di musica un po di musica un po di musica arriva 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 la monica di monza un po di musica bene dai dopo la camminata all'autodromo non lo so sono 7 8 secondo giro secondo giro di birra dopo decidiamo cosa mangiare faremo pugliese e poi vediamolo e dopo vedete bene abbiamo optato per il mangiare salentino giusto giusto puccia puccia alla pancetta e alla forchetta che ci vede alza va bene dai adesso mangiamo dopo adesso torneremo alla villa reale dopo un bacca un bacca quindi buon appetito via la proposta qua Grazie a tutti. Bene, siamo arrivati alla macchina, come potete vedere, anche questa gita fuori porta è terminata. Pomeriggio al parco della Villa Reale di Monza, più tappa all'autodromo di Monza. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace qui sotto oppure un commento e ci vediamo alla prossima passeggiata. Ciao a tutti.